Amici sportivi, buonasera da Bruno Conte, benvenuti ad un'altra puntata di Sport Puglia, ospite di questa serata è Simone Ciancio, difensore del Lecce, uno degli acquisti estivi del Lecce. Ciao Simone. Buonasera a tutti. Allora, hai digerito la pillola amara di Francavilla o ancora siete e sei sotto tensione? No, diciamo che l'abbiamo digerita non del tutto, ci teniamo ancora un po' di amaro in bocca per domenica contro il Catania. Simone Ciancio è genovese, è alto 1,85 m, ha giocato tre anni, tre stagioni in Serie B, quindi è un giocatore oltre a tante stagioni in Serie C naturalmente, quindi è un giocatore molto esperto anche di categorie superiori. Cosa è successo a Francavilla? Sono stati gli episodi, l'arbitraggio che è stato contestato dai vostri dirigenti o cosa? O siete stati voi a calare in maniera netta in quel secondo tempo? Diciamo che noi abbiamo iniziato, secondo il mio punto di vista, bene. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo andati vicino più volte a segnare la rete, soprattutto al quindicesimo. Mi sembra tra il quindicesimo e il ventesimo la traversa di Checco che poteva darci subito un vantaggio e si poteva parlare dopo di un'altra partita. Poi su due calci piazzati abbiamo preso due gol e il ramarica è quello, perché alla fine il campo che noi non eravamo abituati, loro sono abituati, campo stretto, sintetico, tutto quello che vogliamo, però quello che ci ha messo più in difficoltà secondo me è stato il vento e poi in più al campo che noi non eravamo abituati siamo andati in grossa difficoltà. Però siamo calati soprattutto nel secondo tempo quando il vento era contro. Senti Simone, a parte il vento, perché non riuscite ad essere costanti nelle partite? Avete regalato il secondo tempo a Francavilla, ma in altre occasioni avete giocato male nei primi tempi. Perché non riesce il Lecce ad essere costante eppure avete tutte le qualità per poterlo fare? Bella domanda. Sono domande che ce le facciamo anche noi nello spogliatoio. Dobbiamo trovare subito il risultato, perché alla fine fare 90 minuti tutti ad alta intensità secondo me è molto difficile. Però bisogna chiudere subito le partite, perché alla fine a Francavilla potevamo fare due gol al primo tempo e poi potevamo gestirla in modo diverso. Se invece non è andata così, siamo andati sotto, siamo stati bravissimi a recuperarla subito e poi il secondo tempo un calo fisico, un calo mentale, non lo so. Non siamo riusciti ad agguantare tutti i punti. La rabbia e la cattiveria che a mio parere saranno determinanti in questo finale di campionato. Forse non sono congeniali alla struttura tecnica del Lecce e può essere questa un'interpretazione. Forse siete una squadra più votata al gioco o allo stile o alla tecnica che non all'agonismo, alla cattiveria e alla rabbia. È probabile che sia questo, però in questo caso dovrete cambiare registro se volete arrivare in fondo. Sicuramente noi siamo una squadra tecnica che prova sempre a giocare da dietro, come abbiamo fatto in tutte queste partite. e snaturarci come dovevamo fare a Francavilla non ci è riuscito, non è nel nostro DNA farlo. Quando infatti dobbiamo farlo ci viene difficile farlo perché anche nell'allenamento il mister non vuole che buttiamo via la palla, non vuole che facciamo la guerra. Noi siamo una squadra che dobbiamo partire sempre da dietro, con i fraseggi, non abbiamo tutti i giocatori che possono fare la guerra. Vedi Sassà, Caturano, se butti la palla lunga sì è forte, però se gli giochi la palla a terra ha fatto 16 gol nel nostro capocannoniere. Ti faccio vedere un titolo, eccolo qua. Caro Lecce, ti batto per scrivere la storia. Antonio Calabro, prima della partita. Cosa pensi di questo titolo? Ti batto per scrivere la storia. Ma tutti, quelli che giocano contro di noi, vogliono, mettono quel calcosino in più. Oggi ha detto bene il mister nello spogliatoio, ha detto che noi siamo un po' il viagra, tra virgolette, delle altre squadre che ogni volta che giocano contro di noi ci mettono più impegno, ci mettono più voglia perché alla fine battere la prima della classe è bello, cioè, indubbiamente. E noi dobbiamo trovare gli stimoli con noi stessi, che sicuramente è più difficile, però è anche più bello perché vuol dire che, non dico che sei più forte degli altri, perché quello mai, però c'è qualcosina in più rispetto a altre squadre. Senti Simone, ma l'ambiente che avete trovato a Francavilla, non solo all'esterno, perché insomma poi alla fine non ci sono stati scontri da tifoserie, per fortuna è andato tutto bene, ma in campo mi è sembrato un ambiente molto teso. Tra di voi, calciatori, ci sono stati dei momenti di alta tensione, ma cosa hai notato in campo? No, ci è stata tanta tensione, soprattutto da parte nostra, perché non riuscivamo a fare le cose che abbiamo provato in allenamento. e quindi c'era nervosismo, perché loro arrivavano sempre prima sulla seconda palla e noi non riuscivamo a fare il nostro gioco e allora c'è stato un po' di nervosismo, però tutto lì. Ora abbiamo già girato pagina, ci stiamo allenando per Catania e basta. E a proposito di Catania, della partita col Catania, ecco un altro titolo. Ecco qui. Adalino, accanto ai rimpianti, rialziamoci subito. Allora, rialzarsi subito, non sarà proprio facilissimo. Il Catania, se non avesse avuto i sette punti di penalizzazione, sarebbe sesto alle spalle del Francavilla. Quindi la sesta forza del campionato. No, il Catania ha un organico, tutti i giocatori che ha il Catania sono ottimi giocatori. Noi però adesso sono veramente dieci finali, sono dieci finali play-off e dobbiamo fare il meglio per, non diciamolo, però dobbiamo fare il meglio per arrivare il più in alto possibile. Vi siete detti qualcosa nello spoletoio tra voi atleti, cioè c'è quell'energia positiva per, come dice Padalino, riprendersi subito? Sì, 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 noi siamo un gruppo, sembrano frasi fatte, però è un gruppo vero, un gruppo forte, un gruppo coeso, un gruppo felice e soprattutto dalle sconfitte siamo usciti sempre a testa alta. Mi ricordo con il Tron Matera che avevamo perso 3-0, dopo tre giorni siamo andati a Messina e abbiamo fatto un 3-0 netto proprio. Quindi non mi preoccupo, anzi, se non vedo l'ora di giocare, subito. Troverete un Catania in un momento delicatissimo, la sconfitta inopinata, direi clamorosa, in casa contro il Melfi e l'esonero di Petrone si attende ad ore il nome del nuovo allenatore del Catania. Capita a Fagiolo, secondo te, una situazione di tanta difficoltà o potrebbe essere addirittura una molla per galvanizzare il Catania? Dipende, dipende, perché se gli dai coraggio può essere una molla mentale a loro favore. Invece se inizi subito ad attaccarli, li metti subito in difficoltà, secondo me mentalmente loro sono un po' più fragili. Mancherà Mancosu, ti sei sentito con lui, Torromino ovviamente, Drudi, Mancosu come sta? Mancosu ha fatto la risonanza, l'ecografia adesso al flessore e oggi pomeriggio dovevano dargli l'esito però si suppone niente di grave per fortuna, una ventina di giorni dovrebbe essere di nuovo a darci una mano. Lo diciamo a chi ama le statistiche, sarà la sedicesima volta che il Catania nella storia viene a giocare a Lecce in campionato nelle 15 partite precedenti il Lecce ha vinto ben 7 volte, 5 pareggi, 3 vittorie per gli etnei, 15 gol fatti e 13 subiti per il Lecce e pensate, l'ultima gara si giocò nel 2015, era il Lecce di Asta e finì 0-0 quindi l'ultima gara risale a meno di due anni fa, un anno e mezzo fa, 0-0. Il Catania, lo ricordo, è ad un solo punto dalla zona playoff che quest'anno comprende anche il decimo posto quindi il Catania al momento è undicesimo, un punto dalla zona playoff. Sarà importante il primo tempo? Non regalate più un tempo agli avversari, per carità Ciancio? No, cerchiamo di non regalargli proprio niente, neanche un minuto, un secondo. Sì, è importante partire forte e metterli subito in grossa difficoltà. Poi sicuramente il pubblico ci darà una mano che verranno numerosi come sempre e in casa noi comandiamo un po' di più rispetto a fuori casa. Tra un attimo ti farò due domande sul Foggia, prima però voglio parlare un po' di te visto che abbiamo ancora 5 minuti di tempo, voglio parlare un po' di te, tu sei nato a Genova di Genova cosa ti porti dentro? Una città così cantata dagli artisti, dai cantanti? No, eh sì, diciamo che anche a me piace un po' cantare, fare karaoke con gli amici però dai, ormai a Genova non ci sto più, sto ad Alessandria che ormai convivo con la mia ragazza, con la mia futura moglie e quindi a Genova ci vado ben poco, solo a salutare i genitori. Nella Sampudoria arrivasti in prima squadra, però non hai mai esordito in Serie A? Mai, ho fatto 6 o 7 panchine, tra l'altro tutte fuori da Marassi, il Novellino non mi ha mai portato in panchina in casa però ho un ricordo bellissimo di quella squadra lì, ancora adesso la porto nel cuore, la mia squadra del cuore. Era Walter Novellino, come avete sentito, l'allenatore di quella Sampudoria, invece in Serie B hai fatto 3 stagioni, 2 nel Cittadella di cui mi sembra di capire un ottimo ricordo, invece non hai un buon ricordo della stagione in Serie B con la Juve Stabia? Sì, sono stato due anni a Cittadella fantastici, uno perché forse era il primo anno dal salto di categoria, ho fatto un salto di categoria dalla C2, all'epoca c'era ancora la Serie C2 alla Serie B e sono stato proprio due anni fantastici grazie al direttore Marchetti. Poi scelta mia, ho resciso il contratto con Cittadella e sono voluto andare a tutti i costi litigando anche con la ragazza, volevo andare a Castellammare e ho fatto l'errore che tornassi indietro e non lo farei. Non ti piaceva l'ambiente? No, diciamo che non mi sono trovato proprio benissimo. Tu hai fatto 8 gol in carriera, ne hai fatti 4 con l'Alessandria, 88 presenze nell'Alessandria, ecco perché adesso vivi ad Alessandria, ho capito bene. Sì, 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 no, Alessandria è ormai la mia seconda città, ho fatto C2, ho vinto campionato, ho fatto la semifinale playoff per andare in B con Sarri e abbiamo perso contro il Verona e ho dei ricordi fantastici. E poi ha vinto una Coppa Italia di Lega Pro, nel tuo palmarès c'è una Coppa Italia? C'è una Coppa Italia di Lega Pro vinta due anni fa con Cosenza contro il Como che c'è raggiosa, è stata la prima Coppa che hanno vinto in Calabria. Senti Simone, quando sei arrivato a Lecce la scorsa estate un collega di Cosenza mi chiamò per dirmi avete preso un grande giocatore e un laterale terzino che riesce ad andare sul fondo e crossare i palloni ottimi per gli attaccanti, nel Lecce lo stai facendo? Diciamo che ho fatto, ancora non sto facendo benissimo, posso fare ancora meglio, diciamo che ora il mister mi sta impiegando più nel mio ruolo naturale che terzino destro e quindi riesco ad arrivare un po' più facilmente sul fondo, però dai io mi impegno sempre al massimo, sono a disposizione della squadra. Chiudiamo con il Foggia, Simone, adesso i nostri telespettatori vanno in fibrillazione, il Foggia in dieci partite ne ha sei fuori casa e quattro in casa, il Lecce ne ha sei in casa e quattro fuori casa, ma il Lecce dovrà andare a Foggia al turno successivo. La prossima giornata vede appunto Lecce-Catania, il Foggia giocherà lunedì a Monopoli. Potreste ritornare in testa, secondo te, magari a pari punti? Cosa ti dice il cuore? Non lo so, noi pensiamo partita dopo partita e 90 minuti sono lunghi. L'unica cosa che mi è che il Foggia gioca sempre dopo di noi, loro hanno già il nostro risultato, però non fa niente. Noi adesso cerchiamo di prendere tutta la posta contro il Catania e poi andiamo a fare lo scontro diretto a Foggia che deve essere una roba fantastica, vincere lì. Ok Simone, i telespettatori, ma soprattutto i tifosi, gli sportivi che amano in Lecce, in Puglia, in tutta Italia, vorrebbero che fosse questo l'anno decisivo, ma dipende da voi Simone, dovete essere davvero più cattivi, dovete dare di più? Dipende soprattutto da noi, le qualità e le potenzialità ci sono, la voglia c'è, perché vincere un campionato poi qua a Lecce sarebbe bellissimo, proprio bellissimo. e ce la metteremo tutta e abbiamo bisogno anche di tutto il pubblico che ci incoraggia, che ci sostiene e noi sicuramente l'impegno e la cattiveria ce la metteremo. Noi ringraziamo Simone Ciancio, al quale auguriamo non solo tante cose belle con la maglia del Lecce, ma personalmente di diventare il cafù, il pendolino del Lecce di questo finale di campionato. Ti va bene come esempio? Ottimo, ottimo, ottimo. Era il mio idolo da ragazzino. Guarda un po', non lo sapevo. Grazie Simone, da Bruno Conte grazie anche a voi, ci vediamo al prossimo appuntamento con Sport Puglia, saluto anche al Tennis Green che anche stasera ci ha ospitato. Alla prossima!